Bene, intanto buonasera a tutti. Io ringrazio Federico e lo Studio Alpino e gli altri organizzatori di questa serata, che tra l'altro vedo molto frequentata. Quello di cui vi vorrei parlare oggi è la storia del lupo nel nostro paese, nel mio paese, cioè l'Italia, che poi alla fine è molto vicino al vostro, quindi diciamo che abbiamo molte cose in comune. Il lupo, nel nostro paese, in Italia, ha conosciuto il suo periodo di minima fortuna negli anni settanta. Negli anni settanta la distribuzione del lupo in Italia, quella che vedete qui, era scomparso dalle Alpi della pianura padana, era presente in una serie di gruppi montuosi dell'Appennino e anche lungo il Tirreno, come vedete. Il lupo era arrivato a questa situazione essenzialmente per la persecuzione diretta. Come vedete, tra le cause della diminuzione del lupo, io non ho messo minimamente l'ambiente, perché il lupo è una specie incredibilmente plastica, come vedremo e come sta dimostrando, che può vivere veramente dovunque trovando semplicemente fonti di cibo adeguate e un minimo di protezione dall'abbattimento. Oltre a questo, la diminuzione delle prede selvatiche aveva giocato un ruolo importante. Non tanto perché il lupo tolte le prede selvatiche non sapesse come mangiare, ma proprio perché le alternative che trovava alle prede selvatiche rappresentavano un grosso fattore di conflitto con la nostra specie. In Italia settentrionale i lupi scompaiono dalla pianura padana intorno alla metà del 1800 e dalle Alpi nella prima metà del Novecento. La cosa interessante da notare, grazie anche a questo lavoro che riguarda anche voi, è che gli ungulati selvatici nello stesso periodo in cui i lupi erano presenti hanno scomparsi da più di un secolo da queste aree, cosa che noi riscontriamo andando all'altro estremo della distribuzione che era la schela Sicilia. La Sicilia, la nostra isola più grande, aveva lupi e aveva lupi fino alla metà del Novecento. Gli ungulati selvatici in Sicilia erano stati estinti 60, 70, 100 anni prima. Quindi il lupo riesce a sopravvivere a una distruzione importante che riguarda tutti gli altri grandi mammiferi. Questa è una cosa da tenere presente per capire quali sono gli sviluppi della occupazione dei nostri paesi da parte di questa specie. In Italia è andata così. Dopo 40 anni il lupo ha recuperato tutto il suo areale appenninico, ha mantenuto il suo areale tirrenico e quei due punti rossi che vedete sono i due punti più settentrionali di riproduzione del lupo di 11 anni fa. Questo è il Gran Paradiso e ci abbiamo lavorato in quest'area e questa qui è un'area particolarmente importante perché lì, è l'area delle Alessini alle montagne sopra Verona, si è realizzata la fusione o l'incontro o il reincontro meglio tra popolazioni di lupo completamente diverse, lupi italiani con lupi dinarici. Un maschio è partito dalla Slovenia col collare tra l'altro messo da un nostro amico, è arrivato in quell'area, ha incontrato una femmina che era arrivata dal Piemonte e hanno messo su famiglia per così dire, hanno creato un branco, un branco che si è rivelato estremamente prolifico perché ha dato rapidamente il via alla ricolonizzazione dell'alco alpino orientale. Alco alpino orientale che attualmente come vedete è ampiamente occupato in particolare nella parte prealpina, anche questo è un elemento che poi ritroveremo. Noi ci immaginiamo che i lupi stiano in luoghi selvaggi, lontani e remoti, non è assolutamente vero e in quell'area continuano ad arrivare i lupi dai Balcani e quindi si è creata sostanzialmente una popolazione mista, riconoscibile dal punto di vista genetico abbastanza bene perché i lupi italiani hanno un singolo aplotipo mitocondriale, vale a dire sono tutti uguali dal punto di vista dell'edità materna e quindi si vede se si sono incrociati con qualcun altro. Chiaramente tutto questo ha trovato impreparate le popolazioni umane che non si aspettavano una ricolonizzazione e non se l'aspettavano così veloce e questo ha creato un sacco di conflitti di cui parlerà il mio collega e sui quali noi stiamo lavorando ormai da 4-5 anni. Da dove vengono i lupi che hanno ricolonizzato le Alpi? Nel mio paese c'è stata grandissima discussione su questo perché vedendosi arrivare improvvisamente i lupi sulle Alpi molti hanno pensato che ci fosse stata una reintroduzione più o meno più o meno diciamo così legale in realtà illegale perché non era stata autorizzata da nessuno. Di fatto i lupi che sono sulle Alpi sono lupi che arrivano dall'Appennino. Questo è un lavoro che abbiamo fatto tantissimi anni fa come vedete e questi due simboli sono Arezzo e Francia. Avevamo ottenuto dei campioni dalla Francia, avevamo già a quei tempi uno studio in provincia di Arezzo e dal punto di vista genetico queste due popolazioni chiamiamole così erano estremamente vicine. Oltre a ciò c'era questa diciamo così cifra di eredità femminile che confermava quello che vi ho appena detto. Il lupo dall'Italia non si è mica fermato, ha colonizzato la Francia, luogo dove si era praticamente estinto anche qua a metà del Novecento e dove ha raggiunto i Pirenei. Sui Pirenei troviamo lupi italiani e questo incremento complessivo è qualcosa che troviamo praticamente in tutta l'Europa centro-meridionale. In Spagna dove pure rappresenta una popolazione importante di lupi questa popolazione è diventata molto più ampia in termini di distribuzione e in Germania i lupi stanno aumentando con una velocità impressionante a botte di 50 branchi in più ogni anno o quasi. Perché è successo questo? Questo questo non è successo perché a mio modo di vedere perlomeno c'è stata una deliberata o non solo per una deliberata azione politica come molto spesso voi trovate scritto la comunità europea ha fatto o non ha fatto. È successo essenzialmente per questa ragione qui che vale anche per tutti gli grandi mammiferi europei. Abbiamo smesso in Europa di fare agricoltura o meglio ne facciamo molta meno. La popolazione umana si concentra nelle città e lascia le aree rurali. Il mio paese è un ottimo esempio da questo punto di vista. Quello che voi vedete colorato in verde e ocra sono tutti i comuni che hanno perso costantemente popolazione dall'871, 921 e 951. Se guardate quella carta, guardate la carta delle montagne e delle colline d'Italia. E poi in queste montagne e in queste colline voi trovate questo. Villaggi abbandonati o un'infinità di ruderi. questo è un fenomeno europeo e non solo europeo. È un fenomeno tipico di tutti i paesi sviluppati. Non è un caso infatti che l'unico tipo di foreste che nel mondo sta aumentando sono le foreste temperate, le nostre foreste. Se voi fate un confronto su quello che sta succedendo a queste in termini di incremento e quello che sta succedendo alle foreste tropicali capite molto bene quello che sto dicendo. Nel nostro paese, in Val d'Aosta, la copertura forestale è aumentata di 5 volte in 150 anni e si passa da ambienti di questo genere a ambienti di questo genere nel giro di 50 anni. In Appennino succede la stessa cosa. In Toscana in 150 anni abbiamo raddoppiato il numero di foreste. Questo tra l'altro è una delle nostre aree di studio 50 anni fa e oggi. Questo è assolutamente lo stesso posto. In più, questo abbandono da parte della popolazione umana delle campagne ha portato a una riduzione importante, drammatica, di cose come la pastorizia. Immaginate che in Abruzzo c'erano 3 milioni di pecore all'inizio del Novecento, adesso ce ne sono 300 mila, 10 volte meno. E poi abbiamo effettivamente fatto qualcosa. Una delle cose che abbiamo fatto è stata aumentare le aree protette. Questa qua è la distribuzione delle aree protette in Europa e questa qui è la storia del mio paese. Noi avevamo 4 parchi nazionali fino al 92, ora ce ne abbiamo 25 e abbiamo più del 10% della superficie del nostro paese protetta. Abbiamo fatto ulteriori cose e cioè abbiamo reintrodotto gli ungulati. Una cosa che abbiamo fatto in modo molto importante in tutta Europa e abbiamo fatto in Italia. Questa è una delle prime reintroduzioni. Guardate anche l'abito delle persone che stanno facendo questa cosa, le ceste di vimini. Questi sono caprioli in Val di Susa nel 1967. Ci sono specie in Italia come il cervo che nell'Italia continentale erano completamente scomparse, scomparse salvo una minuscola popolazione qui nel delta del Po. Tutto quello che voi vedete colorato di viola, questo è un punto fatto al cambio del secolo, quindi nel 2000, è stato il prodotto di o immigrazioni naturali o reintroduzioni. Da qui in giù sono tutte reintroduzioni di cervo. E questo ha cambiato completamente la faccia del nostro paese, del mio paese, dal punto di vista della presenza di ungulati. Se voi all'inizio del Novecento avesse sommato tutte le distribuzioni delle otto specie che abbiamo nel nostro paese, avreste ottenuto quest'immagine qua, in cui l'unico animale che era presente con continuità era il camoscio alpino. Il cinghiale era quasi estinto nel nostro paese. Cento anni dopo questa qua era la situazione. Un cambio totale. Dopodiché per il lupo noi abbiamo fatto qualcosa di particolare. Fino al 1971 il lupo era una specie nociva, il che significava, per la nostra legge sulla caccia, cacciabile in qualsiasi tempo con qualsiasi mezzo. Questa qui era la dotazione dei guardiacaccia reali per la gestione dei nocivi. Ogni guardiacaccia reale, che poi è diventato un guardiacaccia presidenziale, aveva nella sua dotazione anche un certo numero di tagliole perché i lupi andavano rimossi. Con un cambio, diciamo, importante di atteggiamento è stata promossa una operazione, la cosiddetta Operazione San Francesco, che da un lato ha ottenuto il bando dei bocconi avvelenati e la protezione parziale del lupo, che poi è diventata totale nel 77, o meglio permanente nel 77. Ma soprattutto ha cercato di convincere le persone che il lupo non era un pericolo per il prossimo e un flagello per la zootecnia, ma era una specie in estinzione con alto valore ecologico. Il guaio in tutto questo è che tutto quello che c'è scritto nelle ultime tre righe è vero, sia una cosa sia l'altra. In quel momento storico era fondamentale esagerare, se mi passate il termine, i termini positivi perché esistevano solo i termini negativi. Il guaio è che in molte circostanze non si riesce a capire che sono passati 50 anni, e 50 anni in cui sono successe tante cose. Comunque sia, quello che vi ho detto ci ha portato a questa situazione qua. Se voi andate in un vigneto in Toscana non è impossibile vedere cinghiali e vedere anche dei lupi. I lupi in Italia hanno riassunto un ruolo ecologico da predatore. Nella maggior parte dei nostri studi i lupi si nutrono di ungulati selvatici fino ad arrivare al 95% della dieta, cioè il lupo fa il lupo, perché è in una situazione ecologica che glielo consente. Adesso vorrei cercare con voi di capire due cose. Con che meccanismo i lupi si sono espansi e quanti lupi ci sono e cosa vuol dire dire che ci sono tanti lupi o pochi lupi. Per capire il meccanismo di espansione, io considero la regione dove vivo, ma non insegno perché io lavoro in un'Università di Sassari, che è la Toscana. La Toscana è una regione dove il lupo non si è mai estinto ed è una regione per molti versi estremamente ricca dal punto di vista ecologico. Perché? Perché ha una grande percentuale di terreno boscato, ha una densità di popolazione intermedia, circa 160 persone per chilometro quadrato e, e questo per il lupo è molto interessante, se la mettiamo in un contesto europeo scopriamo che la Toscana è uno dei luoghi in Europa dove ci sono più ungulati selvatici. In più la Toscana è una sorta di crocevia per le popolazioni di lupo italiane, come è stato dimostrato molto bene da questo lavoro di colleghi dell'ISPRA. E, come vi dicevo, è un luogo dove il lupo, anche nei suoi momenti meno felici, non si è mai estinto né lungo il crinale appenninico né nella porzione tirrenica del suo areale di distribuzione. Cosa su cui pochi riflettono, in Toscana nel 1989-90, fate conto, sommando ciò che dicevano autori diversi, si scopriva che c'erano già 100 lupi. Vi faccio notare che una delle più popolari convinzioni nel mio paese è che in Italia c'erano 100 lupi quando è cominciata l'operazione San Francesco, senza considerare che un lavoro parallelo aveva raccolto qualcosa come 750 abbattimenti di lupo negli ultimi dieci anni. Ed è un po' difficile avere 100 lupi se ne è ammazzati 750 nei dieci anni precedenti. Comunque, la Toscana è stata rapidamente ricolonizzata dal lupo. Questa è la situazione del 1974, questa è la situazione del 2016, ultimo anno in cui con Duccio Berzi e altre persone abbiamo fatto il monitoraggio della presenza dei branchi per la regione toscana. La distribuzione allora era questa. Attualmente tutto ciò che voi vedete colorato di bianco, che è la bassa valle dell'Arno, che è la zona più popolata della Toscana, con maggiori industrie, è anche questa occupata dal lupo. Quindi la Toscana è, e non è una notazione politica, perché ormai non è più così, tutta rossa. Ok, quanti branchi c'erano in Toscana? Con un approccio che tendeva a individuare il numero minimo esistente, quindi quello che vedete sulla carta c'era. Se c'era qualcosa di più, noi non lo possiamo dire con certezza. Abbiamo trovato 110 branchi tra il 2014 e il 2016, con una certa costanza. Quindi 110 branchi di lupi significa avere circa un 530 lupi. dove stavano questi lupi, al di là del vedere i punti sulla cartina, che a chi non conosce bene la regione probabilmente dice poco. I lupi stavano in gran parte in montagna, quindi che era usata più del disponibile, in buona parte anche in collina, usata come il disponibile, ma, e questo è un punto interessante, cominciava la colonizzazione della pianura. Pianura uguale, altezza sul livello del mare da 0 a 100. Per capire come ha funzionato tutto questo, vi faccio vedere una cosa di ancora maggiore dettaglio, che riguarda una provincia della Toscana, la provincia di Arezzo, che è qui, vedete, nel nord-est, scusate, nel sud-est della regione, che è una provincia che si presenta più o meno così, ha un'area pianeggiante, un'area boscata, ha una copertura forestale media per la Toscana, il 55%, e anche una densità di popolazione intermedia. Quando abbiamo cominciato a lavorare sul lupo in provincia di Arezzo, veramente tanti anni fa, perché era il 93, in provincia di Arezzo noi siamo stati in grado di trovare quattro branchi, tutti, non sorprendentemente, sulla crinale principale dell'Appennino, cioè in un ambiente, immaginatevi, tipo questo. Sono le foreste casentinesi, per chi conosce la Toscana. Negli anni successivi del secolo scorso, i lupi avevano cominciato a conquistare le catene montuose secondarie, ma erano fermi nel nord della provincia. Al di sotto di questa riga rossa non c'erano lupi. Che differenza c'era tra l'area con i lupi e l'area senza lupi? Beh, lo vedete bene qui, scusate. Ok. E cioè, avevamo una copertura forestale nell'area con i lupi che era doppia di quella senza lupi. Una quantità di esseri umani che era tre volte inferiore, ma, e questo è il punto importante da tenere presente, la biomassa di ungulati era diversa, ma non era così diversa, nel senso che nelle aree sotto la linea rossa gli ungulati erano presenti e in alcuni casi anche presenti con delle densità di biomassa importanti. Ora, per chi di voi non è familiare con i valori di biomassa per cento ettari, per chilometro quadrato, immaginatevi che in Finlandia ci sono valori tra i 200 e i 300 chili di ungulati per chilometro quadrato. In Italia arriviamo in certi posti, e anche in Svizzera, ne sono convinto, a averne 2000. Quindi queste densità qua sono densità importanti. E non sorprendentemente cosa ha fatto il lupo? Quello che fanno tutti i mammiferi sono andati dove c'erano le risorse. Ed ecco che è passato da quell'ambiente lì a quest'ambiente qua, questo è il vigneto di fronte a casa mia, dove regolarmente io trovo dei caprioli predati. E ecco che hanno occupato la parte pianeggiante e basso collinare della provincia, continuando a aumentare, perché in 20 anni da quattro branchi erano diventati 21 e successivamente 24, dopo 25, attualmente diciamo la stima, perché poi abbiamo smesso di contarli, perché è una cosa piuttosto onerosa, poi se volete vi raccontiamo anche come lo facevamo, attualmente si ritiene che ce ne siano 45. I lupi arrivano in pianura, arrivano in pianura, tant'è che questo qui era un branco, una femmina con i due piccoli, poi c'era anche il maschio, che si era piazzato qua, in questo canneto, vedete che le montagne sono piuttosto distanti, nel centro geometrico della Val di Chiana. e questo succede in tanti altri ambienti pianeggianti della provincia di Arezzo. Immaginate che in questo boschetto, che era vicino a questa fabbrichetta di macchine agricole e circondato da aree coltivate, l'anno scorso c'era una coppia con tre piccoli e i contadini che abitavano intorno vedevano regolarmente questi lupi uscire e entrare dal boschetto. Beh, queste sono immagini così. Questi sono i lupi, questa è una foto fatta da un centro ippico, anche lì. Tutto questo, guardate, ha un riscontro storico e il riscontro storico noi lo ritroviamo, per esempio, andando a guardare in Lombardia, questa è la provincia di Bergamo, cosa è successo nel tempo? Questi sono gli abbattimenti di lupi con delle densità diverse in secoli successivi. Questo qui era il XVII secolo, quindi il 1600. Voi vedete che, scusate, la maggior parte di lupi veniva abbattuta in pianura e in collina, in montagna c'era molto poco. Col passare del tempo, secolo successivo, vedete che gli abbattimenti cominciano a spostarsi verso l'alto e cominciano a ridursi in pianura. Gli ultimi lupi della provincia di Bergamo sono stati abbattuti sulle Alpi e nella parte alta della provincia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi animali hanno sostanzialmente trovato rifugio in luoghi remoti, non perché li amassero particolarmente, ma perché è l'unico posto dove non gli sparavano. e vivevano tranquillamente in pianura dove, tra parentesi, stanno tornando. Avendoci vissuto più di vent'anni, posso dire che la pianura padana è uno dei posti più tristi del pianeta. Ha 650 abitanti per chilometro quadrato, una delle densità maggiori d'Europa con la produzione industriale più alta d'Europa. In pianura padana i lupi c'erano fino alla prima metà del 1800. Questi sono abbattimenti di lupi fatti in pianura padana nel 1800. E questo qui è il ritorno del lupo in pianura padana. Prima in boschi lungo il Po, in una ex centrale nucleare, poi molto più vicino, con scene che ci ricordano qualcosa che succedeva nell'800, nel 700, nel 600. Questa è un'autostrada, l'autostrada del sole. E via dicendo. Dopodiché si arriva al caso eclatante del lupo ripescato dai navigli a Milano tra la gente che prende l'aperitivo. Quindi, diciamo, rendiamoci conto che i lupi possono benissimo vivere in pianura. L'hanno sempre fatto, non l'hanno fatto più nel momento in cui li abbiamo semplicemente eliminati, ma nel momento in cui trovano del cibo lo fanno. Trovano ancora del cibo in pianura padana i lupi? La risposta è sì. Tra gli animali che abbiamo seguito, come ricordava Federico, noi lavoriamo con animali radiocollarati, c'era questo animale qui, che era una femmina recuperata in un canale dotata di un collare. Questa femmina è stata lasciata sul Monte Baldo, ma naturalmente subito scesa in pianura da dove era stata recuperata e si è messa a vivere tra Verona e il Mincio. Cosa faceva questa femmina? Una cosa molto semplice. Mangiava sfruttando tutti i rifiuti che trovava da stalle e da altre, diciamo così, imprese agricole e occasionalmente si mangiava una nutria. ed è quello che fanno normalmente i lupi in aree pianeggianti. Questo è un lupo nella pianura retina e queste qui, tra l'altro, sono una cosa interessante, sono escrementi con l'uva. I lupi mangiano l'uva, non solo i volpi mangiano l'uva. Ed era una cosa nota nell'Ottocento. Come si comporta un lupo in pianura? Fa una cosa molto semplice. Questo è un attogramma, cioè è una misura del comportamento di attività o non attività, se preferite, del lupo. Questi, qui, queste tracce sono le linee tra notte e giorno. Ok, questa lupa era completamente, assolutamente notturna, come vedete. Il di giorno praticamente non era attiva mai ed era talmente invisibile che quando le persone che la seguivano andavano dai contadini a dire guardi che lei ha un lupo intorno a casa, a questi gli rispondevano un lupo, ma qui sono due secoli che non si vede un lupo e ce l'avevano di fianco a casa. Un altro elemento che favorisce l'insediamento di lupi in aree prossime a le abitazioni umane e le aree pianeggiante ovviamente come abbiamo visto sono le prede. Questo è il caso di San Rossore che è una tenuta, un'ex tenuta presidenziale attualmente parco regionale vicino a Pisa e lì c'è un branco di lupi che negli anni si è formato dal 2016 a oggi ci lavoriamo questi sono i primi due lupi catturati la settimana scorsa ne hanno presi altri due la ragione per cui un branco di sette lupi più alcuni individui vaganti vivono in 4.000 ettari sta tutta qui San Rossore ospita una delle popolazioni di Daino più numerose del mio paese hanno una densità incredibile e questo fa sì che il branco è indicato dai puntini scusatemi azzurri viva all'interno di quest'area che è di 4.600 ettari per la precisione ma qui c'è la torre pendente e l'individuo vagante che non è molto ben accetto dal branco per cui deve fare sempre dentro e fuori si trova a vivere in posti di questo genere questo è un abitato qui c'è un centro ippico e ogni tanto lui si traversa di notte un campo da calcio cose di questo genere la stessa cosa l'ho imparata io questa qui l'area intorno a casa mia è un vigneto e questo vigneto viene utilizzato moltissimo dai caprioli infatti mettendo delle fototrappole a 60 metri da casa mia ho recuperato un lupo a questo punto ci possiamo domandare è possibile è pensabile eliminare l'espansione del lupo dall'Europa la risposta francamente è no ci sono situazioni anche nel mio paese in cui si fanno grandi proclami in questo senso si usa politicamente il problema che il lupo oggettivamente pone alla gente ad alcune categorie in particolare ma questo è semplicemente impensabile ok ma il lupo è stato questa questa situazione noi ce l'aspettavamo l'abbiamo gestita in qualche modo io mi sentirei dire la risposta è no perché la risposta è no perché per molti 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 anni in letteratura ufficiale scientifica questa qua è Science non è Topolino è una delle riviste più importanti per le persone che fanno il mio mestiere veniva sostenuto che in Italia nel 2014 su tutto l'Appennino ci fossero da 600 800 lupi nello stesso periodo noi con il monitoraggio che avete visto ne trovavamo 500 in Toscana l'anno successivo abbiamo detto alla comunità europea che avevamo 800 lupi su tutto l'Appennino ma ancora una volta era qualcosa di assolutamente non credibile perché un numero minimo e sottolineo un numero minimo dava questi valori qui perché se poi si andava a guardare un po' più nel dettaglio cosa che abbiamo fatto con un sistema di che utilizzava la genetica le fototrappole e il riconoscimento individuale e venivano fuori densità di branchi per chilometro quadrato di questo tipo che per tradurvela in pratica suggerivano che in Toscana ci fossero circa 850 930 lupi nei branchi nel 1000 scusatemi nel 2015 cosa che veniva confermato più o meno anche da un modello fatto utilizzando dati di tipo di dinamica di popolazione ricavati da studi nostri e di altri quindi in pratica che cosa è successo nel nostro paese è successo che il lupo è finito per essere l'unico mammifero capace di aumentare del 5% per 40 anni del 35% nel giro di 3 anni il che capite bene che funziona poco con la biologia dei mammiferi e questo qui è più o meno l'origine dei nostri problemi perché poi alla stima che avete visto di 1800 lupi segue la stima assolutamente prudenziale a mio modo di vedere fatta da Ispra pochi anni dopo di 3300 e voi capite che c'è qualcosa che non funziona in tutto questo e questo qualcosa è abbastanza chiaramente indicato quando andate a vedere quali sono veramente gli home range dei branchi di lupi cosa che noi abbiamo provato a fare e scoprite che ci sono normalmente dei valori molto bassi cioè intorno ai 100-140 ettari con alcune situazioni limite che la letteratura non prevede i lupi non sapevano che non dovevano comportarsi così in aree di diciamo così insediamento remoto o dove sono sempre esistiti dove c'è un'alta densità di lupi noi arriviamo a avere un branco di lupi ogni 3000 ettari il che significa che in e queste qui sono le foreste casentinesi in 10.000 ettari abbiamo tre branchi di lupi e questo spiega perché il parco lo sa benissimo e lo dice apertamente tra una certa incredulità loro hanno 13 branchi di lupi in un parco di 40.000 ettari e questo è perfettamente ragionevole considerando l'espansione che hanno avuto la densità di risorse che ci sono quello è un parco dove ci sono quattro specie diverse di ungulati e a questo punto ci possiamo domandare noi quanti lupi avremo in Italia nel futuro non è una domanda semplice però al solito andando un attimino indietro a vedere cosa succedeva un po' di tempo fa scopriamo una cosa interessante della Francia in Francia pagavano come in molte parti d'Europa delle taglie per ogni lupo ucciso e in era napoleonica sapete che i francesi hanno questo stato centralizzato che raccoglie tutto e funziona in modo molto ordinato in era napoleonica in Francia venivano uccisi 5.000 lupi all'anno se vi fate due conti sull'incremento utile anno di una popolazione di lupi potete fare un po' di ipotesi molto rapidamente che problemi ha creato questo nel nostro paese i lupi ibridi sono il prodotto dell'espansione molto rapida di lupi in aree dove una femmina o un maschio trovano dei cani normalmente una femmina perché tutte le ibridazioni che abbiamo trovato noi hanno un'origine asimmetrica e l'origine asimmetrica è legata al fatto che quando una femmina di lupo si accoppia con un cane poi alleva i piccoli come i lupi e questi animali sono in grado e gli ibridi sono in grado di vivere in natura comportandosi come dei lupi se succede il contrario semplicemente una femmina di cane si porta a casa dei piccoli ibridi e abbiamo trovato anche questi da persone che vivono in campagna e non si domandavano come mai questo cane non abbaia mai ok io l'ho trovato anche in un canile così con le persone che si occupavano diciamo lodevolmente di questi cani che non si è resi conto del come mai quest'animale così strano non abbaia ok perché i ibridi sono un problema sono un problema per quattro ragioni la prima è che diffondono geni di cane nelle popolazioni di lupo queste sono due aree della provincia di Arezzo qui c'è stato un evento di ibridazione nel 2005 immaginate che quello che è blu è patrimonio genetico di lupo quello che è bianco è patrimonio genetico di cane in quest'area la situazione era questa qui quest'area è vicino a un'altra montagna dove fino al 2005 c'erano lupi che erano lupi e basta dopo il 2005 abbiamo cominciato a vedere arrivare ibridi e questa è una situazione ripetibile n volte gli ibridi mangiano esattamente le stesse cose che mangiano i lupi quindi sono dei competitori importanti gli ibridi predano gli animali domestici esattamente come i lupi e i lupi pagano il prezzo di quello che fanno anche gli ibridi gli ibridi sono in grado di difendere un territorio molto bene questo era il capostipite del gruppo di ibridi era un F1 un incrocio tra un cane probabilmente un'alaska malamut e un lupo e questa qui ha sua figlia che hanno difeso con il loro branco due territori essendo circondati a territori di lupo e gli ibridi purtroppo sono piuttosto frequenti in Toscana purtroppo lo sono anche nelle Alpi e la cosa è nuova perché fino ad ora si è creduto che le Alpi fossero immuni e questo qui è una cosa interessante perché da un lato questo esempio qui vi fa vedere quello che ci siamo appena detti una femmina di lupo si incrocia con un cane tutto questo è stato visto e studiato in Slovenia da colleghi del luogo produce quattro piccoli che riesce miracolosamente aggiungo io perché i lupi sono monogami obbligati perché è molto difficile che un animale solo riesca a levare i piccoli e quindi devono collaborare tutti e due infatti vedete com'era ridotta la femmina riesce a levare quattro piccoli riesce a levare quattro piccoli gli sloveni persone pratiche cosa dicono vogliamo gli ibridi no ne abbattono tre uno più intelligente degli altri capisce cosa deve fare viene in Italia va a Tarvisio dove cominciano a domandarsi cosa fare intanto che si domandano cosa fare lui che era evidentemente un animale piuttosto intraprendente si riproduce e siamo alla terza cucciolata di ibridi lato orientale lato occidentale un meraviglioso lupo color labrador che vive nel parco delle Alpi Cozzie e anche qua diciamo ha un certo successo personale Trentino quindi Alpi Centrali di fianco a casa mia questo qui che è difficile considerare un lupo puro e questo è una cosa di casa vostra che mi ha mandato Federico cosa si fa in genere in questi casi beh una prima cosa è prevenire il randagismo e tenere sotto controllo i propri cani c'è un sacco di gente che lascia i cani girare di notte voi non avete idea con le fototrappole di quante volte uno vede pastori tedeschi cani lupo cecoslovacchi e ogni cosa ecco quel modo lì quello lì è il modo migliore per avere ibridi in circolazione noi quello che abbiamo fatto in un progetto pilota che poi è stato interrotto perché i problemi è meglio mai non affrontarli è stato catturarli ne abbiamo catturati una decina e li abbiamo messi in cattività perché la nostra legislazione non prevede la soppressione poi il progetto si è interrotto ma gli ibridi hanno continuato a essere presenti e a riprodursi l'altro problema che abbiamo sono i lupi urbani se voi prendete i branchi toscani del 2016 scoprite che il 36% dei branchi sta nell'ambito di 2-3 km da un centro abitato e il 35% sta nell'ambito di 5-10 km da un grosso centro abitato immaginatevi un comune di 6.000 7.000 abitanti quindi i lupi sono vicino a noi sono vicino a noi e visto che ci sono cosa fanno ci fanno visita ovviamente ci fanno visita di notte ci fanno visita di giorno e queste sono diciamo ormai scene quasi quotidiane nel senso che sui nostri telefonini arrivano queste immagini anche di lupi che in pieno giorno traversano paesi e anche questo probabilmente questo succedeva regolarmente dove c'è un corso d'acqua i lupi prendono il corso d'acqua lo seguono e entrano in città questo addirittura era un lupo colto perché questa qui è stata fatta da un'aula universitaria dell'Università di Parma ci sono anche i lupi culturalmente interessati a Firenze dove sapete che esistono molte cose interessanti da vedere il lupo più vicino al centro della città era a 350 metri dal piazzale dove si fermano i pullman dei turisti e in Toscana in generale abbiamo il problema di lupi che vista l'espansione sono arrivati sulla costa e sulla costa c'è soltanto il mare oppure c'è la spiaggia ok quindi capite che è una situazione che si è evoluta rapidamente e che bisognerebbe prendere seriamente in considerazione questa qui è lo dico subito ovviamente un fotomontaggio i lupi a San Pietro io lo dico sempre ai miei amici di Roma tra cinque anni non sarà più così perché perché a Roma noi abbiamo questi e dare risorse ai lupi significa averli intorno questo è un bellissimo paesino toscano dove delle signore che amano i gatti davano le crocchette lungo la passeggiata intorno alle mura ecco le crocchette piacciono dei gatti piacciono tantissimo ai lupi e le persone di questo paese hanno smesso di fare le passeggiate l'intorno perché si trovavano regolarmente il lupo di mezzo un po' come in questo caso la gestione delle carcasse è una cosa a cui fare attenzione se uno non vuole avere i lupi intorno alla propria fattoria questa nuvola di punti di questo lupo che avevamo catturato in Toscana ce la siamo sempre domandata a cosa fosse dopodiché siamo andati a vedere e c'era un meraviglioso letamaio con le placente e i resti degli animali che morivano nella stalla e il lupo ovviamente andava a visitarla con una certa regolarità questo invece delle alpi un lupo che parte dalla cima di una montagna e scende scende in pianura e in pianura va intorno alle case cosa c'è intorno alle case ci sono i resti di cucina buttati nel bosco e la sconvivenza tra i cambiamenti di comportamento del lupo indotti da questa cosa è qualcosa che stiamo cercando di studiare però nel contempo ci sono anche aspetti un pochino meno come potrei dire neutri dal punto di vista dell'impatto dell'opinione pubblica questo è un lupo che in Toscana attraversa una città di notte con un gatto in bocca questa qui è una predazione di un lupo su un cane non ve la faccio vedere tutta perché è lunga perché abbiamo tempo ma credeteci e in Italia abbiamo problemi seri sia con i cani da compagnia sia con i cani da caccia e infine arriviamo ai lupi confidenti o aggressivi quando io parlo di questo argomento premetto sempre questo nel mio paese sono state uccise 32 persone dai cani tra l'84 e il 2009 e nello stesso periodo e nel secolo scorso diciamo dalla seconda metà del secolo scorso oggi i lupi non hanno toccato nessuno ma è un fatto che esistono lupi di questo genere questa non è una questa è una foto fatta col telefonino da una persona che non era contenta di averla fatta e i lupi stanno diventando oggettivamente alcuni individui molto confidenti questo sta marcando di fianco a degli ornitologi su una spiaggia e questo crea in tutta una serie di situazioni problemi di reale sensazione di pericolo che molto spesso è virtuale ma quello che conta è che il pubblico si senta insicuro e in alcuni casi questo non è completamente campato per aria perché quello che vediamo nei dipinti del passato in cui non a caso i lupi sono neri perché il demonio è nero e quindi i lupi devono essere neri in realtà trova riscontro nelle note storiche questa qui lo trovate in rete 5.300 e passa persone uccise in Francia dei lupi in quattro secoli ma senza andare in Francia basta andare in Italia in pianura padana o nel Ticino e uno trova dati di questo genere che sono dati oggettivamente che fanno riflettere tipo 146 persone aggredite uccise ai lupi fra il 1800 e il 1825 essenzialmente in pianura padana chiaramente uno deve domandarsi perché succedono queste cose abbiamo appena visto che in pianura padana non c'era nulla da mangiare non c'erano animali selvaggi non c'era niente c'erano soltanto animali domestici e ragazzini che andavano in giro con le greggi ogni tanto anche un ragazzino veniva predato erano situazioni che noi non ci immaginiamo neanche perché nessuno di noi manderebbe il suo figlio di 5 anni a recuperare la mucca nel bosco di notte perché gli interessa più la mucca del figlio che è il caso con cui inizia un racconto di questo libro che vedete lì è ovvio sono cose che succedono ancora in India dove hanno delle condizioni socio-economiche paragonabili in certi stati del centro del centro occidentale a quelle che avevamo noi in Europa nel 600 nel 700 vale però la pena di non essere superficiali e non trascurare cose che cominciano a succedere noi abbiamo il caso di questi tre lupi che vivevano adesso ce ne sono solo due in un paese in Abruzzo lungo la costa dove sostanzialmente uno dei tre ha deciso che gli piaceva mordere la gente ha morso 11 persone prima di essere catturato gli altri due che non toccano le persone ma toccano i cani sono teoricamente intangibili perché tutto sommato non fanno niente alle persone non parole mie come potete immaginare ma parole di autorità nostre ecco questi qui sono atteggiamenti che alla fine sono controproducenti perché perché ovviamente scusate ok ovviamente tutti i mammiferi hanno all'interno delle loro popolazioni individui con caratteri più o meno problematici anche tra gli esseri umani esistono persone tranquillissime fortunatamente la stragrande maggioranza esistono i delinquenti ok cioè gente che fa del male ok bene nel caso dei lupi non possiamo usare delle categorie morali però possiamo dire che ci sono individui più aggressivi più intraprendenti più problematici se noi non impariamo a gestire queste situazioni rimuovendo in modo chirurgico questi individui noi creeremo degli stati di conflitto tale per cui il lupo nella sua complessità verrà messa in discussione ed è sbagliato come è sbagliato volerli salvare cioè non voler toccare un solo individuo è sbagliato voler eliminare la specie che ha un ruolo ed è un ruolo importante ma il problema vero è capire che questa per lo meno è la mia opinione se noi non arriviamo a conoscere in primo luogo quindi conoscere i branchi sapere chi fa cosa e via dicendo e non interveniamo nelle situazioni critiche creiamo più guai di quanto non ne risolviamo per la specie e anche per la nostra specie quindi il problema è salvare e gestire le popolazioni non gli individui e questo è un problema che avete probabilmente visto tutti e seguito drammaticamente sulle questioni orsi nel mio paese il problema non è che se tu togli un orso crolla il mondo il problema è che tu devi garantire la soprenza della popolazione non aver tolto un solo orso che aveva ammazzato una persona è costato cinque orsi bracconati nel giro di pochi mesi è stata una buona una buona idea secondo me no e l'ultima cosa che vi dico è che dobbiamo cercare di diciamo informare le persone e questa è un'altra cosa che manca moltissimo cosa si fa quando o semplicemente che la specie c'è questo qui era un ciclista che era una brava persona e trova quello che credeva essere un cane impigliato nel filo spinato essendo una brava persona dice io questo cane lo libero tira fuori la pinza sotto il sellino e inizia a liberare il cane disgraziatamente era un lupo e questo si è girato probabilmente questi sono frammenti di un filmino il ciclista ha tolto il braccio sufficientemente in fretta per non farsi mordere la cosa è finita bene se a quella persona avessero detto guarda qui ci sono i lupi se trovi un animale così e così e così non fare nulla chiama la forestale e la finiamo lì e poi ci sono anche le persone poco intelligenti che sono quelle che nutrono i lupi e purtroppo ce n'è più di quanti voi non immaginate e si fanno anche i selfie quindi in sostanza concludendo io credo che la gestione della presenza del lupo sia qualcosa di assolutamente possibile alla nostra portata passi attraverso l'educazione del pubblico la rimozione di cibo e di ogni risorsa dove noi non vogliamo avere lupi è inutile che lasciamo i resti alimentari per esempio i resti di una fantastica arrostita fuori dalla porta di casa e poi ci lamentiamo perché abbiamo il lupo se siamo in campagna per quello in modo per averceli dissuadere i lupi e Duccio Bersi vi parlerà di questo da essere troppo diciamo così arditi e nel momento in cui c'è un lupo problematico rimuoverlo semplicemente ecco questo è quello che vi volevo dire grazie per la pazienza grazie grazie